Le hanno arrestate con l'accusa di rissa aggravata in concorso, protagonisti della singolare vicenda due nuclei familiari di apicoltori di Zafferana che hanno avuto sabato mattino un'accesa discussione scaturita da divergenze e contrasti lavorativi nel settore produttivo delle agnie. I forti rancori accumulati nel tempo hanno infatti fatto degenerare la lite in una furiosa rissa venuta per strada in via Irone a Zafferana durante la quale i partecipanti se le sono date di santa ragione utilizzando anche una spranga di ferro. I militari della locale stazione, tempestivamente intervenuti sul posto, hanno bloccato e arrestato cinque persone, un 55enne, un 54enne e un 27enne appartenenti ad un nucleo familiare e un 50enne e un 20enne appartenenti invece ad un'altra famiglia scongiurando così ulteriori gravi conseguenze e sequestrando anche la spranga di ferro. I fermati sono stati soccorsi e condotti all'ospedale Santa Marta di Aciriale dove sono stati medicati per diversi traumi riportati in varie parti del corpo, giudicate guaribili in dieci giorni. Gli arrestati sono stati comunque condotti agli arresti domiciliari, questa mattina sono stati giudicati a Catania per direttissima.